Mi dicevo, ma la musica poi è uno strumento per le relazioni internazionali. Ma quanti musicisti dalla storia dei tempi hanno questo desiderio di pace, di dialogo con l'altro, con il diverso, e non sono spaventati, anzi dal diverso sono curiositi. Vi voglio leggere una cosa molto bella, questo è un libro, si intitola Lo spartito del mondo, o Giovanni Pietti, ed è uno spaccato appunto di storia della musica, di relazioni internazionali che intrecciano la storia e la vita dei fasciscisti. Guardo Muffat, un violinista tedesco, esprime questo suo desiderio di pace del mondo. Le armi di guerra e le ragioni che le fanno impugnare sono ben lontane da me. Le note, le corde e le dolci meravie guidano il mio percorso. E quando unisco la maniera francese con quella tedesca e italiana, non lo faccio per cominciare una guerra, ma forse, al contrario, per preludere all'unità, alla dolce pace che tutti i popoli desiderano.